Bella a tutti ragazzi, bentornati con questo nuovissimo episodio della serie di Minecraft ITA Oggi volevo fare una struttura megalo... Mega... Eeeh Bella a tutti ragazzi, bentornati con questo nuovissimo episodio della serie di Minecraft ITA Quest'oggi volevo creare una struttura, principalmente un ponte Un ponte che lo farei partire da qui e ci porta verso quella zona lì Perché ho visto che c'è del... Ci sono delle cose interessanti In off camera sono andato un po' a minare, ho trovato dei diamanti Quindi ho fatto sia una spada, l'ho incantata, purtroppo non sono stato fortunatissimo Solo saccheggio 3, però con i mob non c'è male Poi una piccozza di diamanti che però ho lasciato in casa con efficienza 4 Stivali con protezione 4 e l'unica cosa buona è questo che con durizza 3, protezione 3 e spine 2 Però devo dire che siamo stati abbastanza sfortunati Ok, il ponte che vorrei creare è completamente in legno Quindi cerchiamo di consumare questo che abbiamo Facciamoci un'altra scetta, ma forse anche due di ferro Possiamo questo ferro, mio Dio, dovrò prima o poi sistemare Andiamo anche a dormire Lo vorrei fare in legno più scuro Vedo che lì ci sono tanti abeti Quindi utilizzeremo il legno da bere e lo alterneremo con la pietra E vabbè Questa piccozza già è finita Vorrei più che altro una piccozza che abbia fortuna O comunque tocco di seta, il cosiddetto silk touch Perché è veramente utilissimo ragazzi Chiudiamo casa Ovviamente il mob spawner continua ad essere abbastanza inutile E non c'è nulla da fare Niente Le versioni per playstation sono sempre, come al solito, peggiori Allora, possiamo utilizzare queste e le consumiamo Questi sono tutti i legni da bere Sì, sono tutti abeti Ok, iniziamo un po' a sdraticare tutti questi bei alti Controlliamo che i legni da bere Dove sono? Sì Ho sentito un mob Ma E vi dicevo Credo che sia importante creare questo collegamento Perché poi Le intenzioni sarebbero quelle di Farlo diventare anche come se fosse Un quadrivio Un ponte E poi Con più lati da cui poter andare Giusto per collegare tutte le zone Qui devo mettere Un qualcosa Se no ci metto una vita A romperlo Quindi raccoglierò veramente Tanta, tanta, tanta legna Perché credo che venga lunghissimo E Ci vediamo fra poco E la madonna Quanti alberelli Allora ragazzi Ho raccolto Due stack Quasi mezzo Di legno di abete E direi di andare A fare innanzitutto Vabbè Quest'operazione Che potevo fare anche tranquillamente Ci servono Tutti quanti Vediamo a quanto arriviamo Beh Non credo ce la facciamo Perché credo che Vabbè Al massimo farò lo slab Allora innanzitutto Ci servono delle scale Facciamo le 16 Così iniziamo a vedere Lo vorrei far partire da qui Però poi potrebbe Eh devo per forza farlo partire da qui Ce l'abbiamo del terreno Sì No se è granito Questa è la terra Anche se poi copre Vabbè che fa Che copre Non fa niente Sì Credo che da qui Non dovrei incrociare Allora vediamo un attimo la Simmetria Perché se la facciamo partire da qua Non è male Forse da qui è meglio Sì Vabbè La struttura sotto La sistemiamo poi Però Le intenzioni sono Tipo di fare Una cosa del genere Allora Uno E vabbè Mettiamoci il pezzo Di Vediamo quanto Vogliamo fare largo Perché se fa Tre Tre va bene Perché farò Alternerò Ogni tanto Degli slab Al centro Si penso che di tre Vada bene Questa è solo la struttura Iniziale Per farvi capire Come lo voglio creare Ebbè Alcuno Ok Perfetto Quindi poi qua mi servono tutte delle scale E col cazzo Ok Perfetto Che possiamo fare così E metterci le scale su La fritta La fritta La fritta Maledetta fritta Ok Io non credo No Non dovremmo Poi Arrivato ovviamente Qui Quindi Bisognerà fare di nuovo Altre scale Ce l'abbiamo No Vabbè Però il senso È quello Perché poi qui Farlo partire Insomma A ponte Quindi iniziamo a fare La struttura iniziale Poi ragazzi Non fuo camera Perché come vedete È una cosa mastodontica Però penso che Utilizzerò gli slab Con gli slab Forse potrei Allora Gli slab Sia di ciottolo Ma anche di legno Iniziamo a farne tanti Vediamo un attimo Vediamo un attimo Capire l'effetto Poi ci vorranno delle fence Sicuramente delle fence A fianco Non sono brutte Ok Dopodiché Io dovrei fare Così E poi lo slab Di pietra Ok Qui Pezzi normali E continuare Fino in fondo E poi qua Mettere delle fence Eh sarà Ci vorrà tempo Ragazzi Ci vediamo fra poco Vedete ragazzi La zona che voglio raggiungere È quella Poi stavo pensando A questo punto Di Dovrei farcela Di fare Dei binari Potenziati Così che Posso arrivare Nelle altre zone Più velocemente Diciamo che la struttura È mastodontica Non me l'aspettavo Così grande Dove essere sinceri Considerate che ho finito Già due stack Di slab Però Penso che L'utilizzo dello slab Sia l'unico Che mi consente Di poter Andare avanti Perché se dovessi Usare i blocchi pieni Non ce la farei Facciamo due stack Di slab Andiamo a prendere Un attimo Della pietra Eh vabbè Il mob spawner È solo brutto Ok La pietra sta qui Perfetto Poi ovviamente Nel tempo Lo abbellirò Cercando di cambiare Un po' La trama Della Della base Perché solo pietra E legno Messe così Diciamo che non fa Nessun grande effetto Magari Più là Cercherò ogni tanto Di ogni 10 blocchi Tipo fare un po' Di pietra qui Lì Anche qui Poi metterò i lampioni Vabbè Questo Probabilmente Poi con calma Lo farò In off camera E ve lo farò vedere La struttura completata Io continuo ad arrivare lì Sperando di Capitare in una zona buona Non in una semplice zona Ragazzi belli La situazione Ci è sicuramente Sfuggita di mano Perché sono arrivato In questo punto Ma come vedete In lontananza Credevo che ci fosse Qualcosina in più Invece Ci sono solo piccole Isolette Quindi Non dico che è inutile Perché comunque Ci consente Di fare delle cose Di allontanarci Velocemente Senza passare per Delle strutture Insomma Senza passare per Delle Come dire Dei biomi A questo punto Le mie intenzioni Erano sempre state Quelle di creare Questo ponte Che poi poteva andare Anche un altro Verso di qua E un altro Verso di là Io direi Di farlo verso di là E quindi Quindi la struttura Prenderebbe questo verso A questo punto Ma perché Almeno gli diamo Un senso E la parte là Lo lasciamo Consiglio Gli mettiamo un cartello Scusatemi Gli mettiamo un cartello Work in progress Di qua invece Cerchiamo di terminarla Anche se ci vorranno Le ore E ovviamente Lo farò in off camera Perché se no Via in noi Erei a morte Tra l'altro Ancora non sono stato Capace di trovare Un mob spawner Perché Credo che sia Importantissimo Dovrò fare Un po' di minaggio Privato Insomma In off camera Perché abbiamo bisogno Di prendere tantissimi Altri diamanti Per completare L'armatura Ma anche per fare Un piccone Una spada Un po' più decenti Perché il saccheggio 3 oddio E' anche buona Perché i mob Mi droppano tantissima roba Ma Mi servirebbe qualcosa Come Knockback Oppure Atterramento Looting Cioè il saccheggio Non me ne faccio niente Sinceramente Quanto stiamo qua E vabbè Ma è sempre Lontanissimo Perché Saperlo lo facevo Da un'altra parte Ma Probabilmente Col senno di poi Non è stato proprio Il posto migliore Dove iniziare Il nostro villaggio Anche perché Siamo stati sfortunatelli Un po' lontano Da tutto e da tutti Lontano dai village Lontano dalle miniere Abbiamo trovato Un mob spawn Sì ma è di ragni Ragazzi Utile quanto la vita Di Gianni Sperti Vabbè C'è una grotta Interessantissima Quindi faremo Quest'ultima parte Di video Exploration Bro Exploration Qui ragazzi Ho usato gli slab Perché sugli slab Non spawnano i mob Ovviamente potrebbero Sponare qui Anche se lo spazio È solo di uno E quindi ho messo Delle torce Ma anche perché Per stare sereni Per la sera Qui ragazzi Non avete idea Ma penso che Sia una cosa Inaudita Il ponte verso L'infinito Che l'utilità Proprio Devo dire Che c'è Nì Perché di fatto Uno poteva Attraversare Da quella zona Allà Però Mi piace Creare questo Perché quando Sarò in grado Di produrre Ferro all'infinito Come una fabbrica Di golem di ferro Mi piacerebbe Creare delle rotaie Verso l'infinito Ed oltre Ora Facciamo un attimo Il pino E ci vediamo All'interno Della grotta Ragazzi Niente Manco un mezzo Diamantino È interessantissima Come grotta Ma ci sono solo I normalissimi Minerali C'è Carbone Ferro Oro Un po' di lavislazio E pietra rossa Ma dei diamanti Nulla Purtroppo La zona Dove io Ho scelto Di edificare Casa È molto vicino Alle rovine Che non portano Purtroppo Devo dire Quasi a niente Che dobbiamo fare Adesso Ce ne andiamo Verso l'alto E Vediamo un po' Vedete Rovine Rovine Da per tutto Ma che Cioè Scendo Per fare Di là Vabbè Andiamo a vedere Ma tecnicamente qua Dovrei cadere Nell'acqua Ma io qua Lo ci sono pure stato No Era qui dietro Non ce lo sbaglio Che Continua Sì Ok Gioriamo anche Questa Puzza Vediamo Di in fondo Dove arriva Ok Andiamo A che pagatino Questa bella Pozza È Un po' Puglia Adesso Accendiamo Che torce Guardate Come si fa A danno Anche lui Perché Ho spine Speravo Che lo uccidisse E' Da rompere Le palle Dai Questa spada E' ottima Per fare Troppare Gli oggetti Un saccheggio E tre Si sente Beh Mi sa Che dovrò fare Un pillarone Verso l'alto Che qui Nulla si muove Andiamo Cambiamo Ciottoli Penso che Per trovare I I diamanti Dovrò fare La classica Galleria E minare Come Come non mai Mettiamo Una torcia Un attimo Che non capisco Ragazzi Raggiungo la superficie Ci salutiamo Bene ragazzi Siamo tornati Nel nostro villaggio La poco Queste carote E queste patate Ci salutiamo Mettete un bel pollice In su Ci vediamo Ci vediamo al prossimo video Ciao